Putin il 21 settembre ha detto chiaramente se voi continuate, come hai detto tu, ricordato se continuate a minacciare il nostro territorio noi risponderemo, lui non è che ha minacciato il mondo, ha detto se continuate ad attaccarci noi risponderemo usando tutto quello che è disponibile compreso le armi nucleari. C'è un certo fatalismo, vorrei un tuo commento su questo perché ad esempio un nostro comune conoscente, il grande giornalista Giulietto Chiesa che tu hai intervistato, passato a miglior vita, beato lui, lui è stato uno tra virgolette dei grandi profeti laici di questo tempo, io ricordo lui anni fa fa un discorso dicendo che quei fatti del 2014 in Ucraina con lo sterminio di Piazza Maidan, la strage di Odessa eccetera era di fatto iniziata la terza guerra mondiale. Quindi lui ha avvisato in tempo, tutti l'hanno applaudito ma nessuno ha fatto niente. Adesso Putin avvisa continuamente farò questo, se non vi fermate nessuno fa niente, abbiamo visto la ministra degli esteri Liz Truss prima di essere eletta come capo del governo, primo ministro inglese ha detto io se devo premere il pulsante nucleare lo farò e addirittura lì il pubblico ha applaudito, quindi c'è questo... E lo farò perché loro vanno nei bunker sotterranei e per tre anni come i topi pensano di salvarsi e gli altri moriranno, per questo si fanno... Il commento che volevo da te Giorgio, perché l'umanità di questo pianeta seppure avvisata per tempo, seppure gli viene spiegato il perché, il per come, certe cose stanno accadendo, da dove vengono e a che cosa porteranno, però di fatto soprattutto il popolo non riesce a prendere in mano la situazione e a fare qualcosa di concreto per fermarla. Riconoscono le cose solo quando è troppo tardi. Perché in questo mondo accade questo? Perché l'umanità, compreso noi fratelli, non crediamo nell'amore. E te lo dice uno che il maggiore dolore della mia vita non è quando... Faccio un esempio piccolo per farti capire e darti una risposta più grande. Il dolore più grande che io provo non è quando con dei miei amici mi litigano, mi litigano, mi litigano, si separano o se ne vanno. Il mio dolore più grande è che non sono creduto e che io li amo. Sai perché? Perché l'uomo vive dentro sempre di diffidenza, di invidia, di gelosia. Quindi se tu manifesti amore, Pier, faccio un esempio su di te perché sennò sono vanesio, pensano che tu vuoi approfittartene, che tu vuoi fare soldi, che tu li vuoi fottere, che tu sei un finto ricercatore, che tu sei falso, che tu sei ego, non pensano che tu li vuoi bene. Perché? Perché non credono nell'amore. Quindi credono magari a gente che dice di te che sei approfittatore, sei tiranno e quindi si accontentano di credere al falso, come dice Gabber, pur di accettare che esiste un uomo o una persona o due persone o cinque persone che amano davvero sinceramente, anche con i loro difetti, ma è un amore puro. E siccome non sono puri nessuno sulla terra, pochissimi, ecco che siamo di fronte all'autodistruzione. Quindi la risposta è perché l'umanità si trova in questo momento così? Perché non crede nell'amore e non crede nemmeno in se stessa quando ama. Pensa che è malata, che ha una crisi di sentimenti, invece tradisce l'istinto di conservazione della vita che la terra offre tutti i giorni. Perché questo sole illumina anche a Matteo Messina De Naro? Ecco, io vorrei sapere da chiunque se il sole è un fottuto falso. Perché se illumina a Matteo Messina De Naro ha fatto una trattativa, giusto? Ditali al sole perché illumina e anche a Pierre. Cioè se tu vai a Castelvetrano e ti incontri con Matteo Messina De Naro, il sole a lui non gli fa ombra, lo illumina e anche a te, giusto? Ma perché a lui lo deve illuminare se lui è stronzo? Perché ama, punto. Ma noi non crediamo che il sole ama. Noi pensiamo che il sole sta illuminando a certa gente perché ha i suoi interessi, perché è un fottuto, perché gli conviene. Ecco, questo modo di pensare dell'umanità l'ha portata a questa situazione. C'è un paradosso in questo però, Giorgio, che quelli che veramente vogliono sfruttare, fregare, vengono applauditi. Vengono applauditi. C'è un paradosso. Perché si specchiano, perché anche loro dentro, forse non amano davvero, ma hanno fatto solo i loro interessi, il loro sentimento di ego e quindi li applaudono. Perché Berlusconi è continuamente applaudito? Eppure ladro, eppure... Eppure ladro, mafioso, prostituto, tutto. Perché è ciò che noi vogliamo essere. E perché è deriso Don Ciotti? Perché è quello che noi non riusciremo mai ad essere, cioè amare senza interesse. Scusa, Giorgio, faccio una battuta. Io spesso scherzo con Berlusconi. Lo so, ho detto qualcosa su Silvio, ma l'ho detta con amore. Eh! a B Grazie.